Siamo entrati ufficialmente in una nuova stagione di trimestrali Q2 2023, un round sicuramente importante per confermare o eventualmente smentire il sentiment super bullish presente ormai negli ultimi mesi sui listini statunitensi. Come mai ho parlato di fine di un'era per quanto riguarda il titolo di questo video? Beh ancora una volta lo spunto me lo dà un paper presente e redatto da un economista della Federal Reserve e che è stato pubblicato alcune settimane fa il quale mette alla luce quelli che sono importanti aspetti secondo il mio presto punto di vista per quanto riguarda in particolare l'outlook di medio periodo per quanto riguarda appunto gli utili societari e di conseguenza poi quelli che saranno i riflessi sulle quotazioni delle società stesse e quindi dei listini. Ma andiamo con calma e cerchiamo di capire quello che viene appunto pubblicato in questo paper e che viene sottolineato. Beh il primo aspetto importante ce lo sintetizza questo grafico il quale praticamente ha preso come storico gli ultimi 70 anni circa dal 1950 in poi ma ha sancito una linea di demarcazione importante 1989. Questo per dire che cosa molti di voi come sempre nei commenti che ancora una volta reputo piuttosto e particolarmente utili nei nostri video hanno sempre sottolineato quello che è un aspetto importante un legame inesistente tra economia reale e mercati finanziari e questo grafico che vi propongo ci sintetizza appunto il tutto. Con l'istogramma in azzurro ci fa vedere quello che è tendenzialmente appunto la crescita dell'economia statunitense in termini di PIL associata con l'istogramma arancione alla crescita degli utili. Ecco potete immediatamente notare come nel periodo 1947-1989 la crescita del PIL sia stata effettivamente il benchmark del riferimento per trainare al rialzo la crescita degli utili societari. Dall'altra parte invece quello che è successo dal 1990 in poi è praticamente una sincronia crescita degli utili ben superiore rispetto alla crescita economica questo in territorio statunitense ovviamente e ci tengo in particolare a sottolinearlo. Ma quali cause di questi due aspetti importanti? Beh ci sono sicuramente degli aspetti da sottolineare che appunto vengono citati nel paper per quanto riguarda politica monetaria e politica fiscale. Queste due hanno visto ancora una volta due diciamo situazioni due ere mettiamola così piuttosto importanti. La prima per quanto riguarda la politica monetaria ce lo fa vedere attraverso il riassunto questo grafico che vi mostro immediatamente dal sito della Federal Reserve di San Luis che mette in contrapposizione l'andamento linea rossa dei tassi di interesse della Federal Reserve stessa dal 1955 in avanti e come possiamo vedere se appunto prendiamo quella linea di demarcazione citata in precedenza a fine anni 80 abbiamo visto una dinamica tendenzialmente crescente in questa prima finestra temporale. Dall'altra parte una seconda era in cui invece i tassi di interesse sono letteralmente scesi. Ecco che di conseguenza anche quelli che sono stati poi i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi ma anche dei corporate bond sono andati tendenzialmente al ribasso. Questo a causa praticamente di quella che è stata una politica monetaria diciamo piuttosto accomodante livelli di finanziamento che si sono abbassati tassi di rifinanziamento che si sono abbassati e quindi questo ambiente ha tra l'altro favorito un aspetto e cioè la leva finanziaria aziendale la quale come possiamo notare da questo ulteriore grafico è letteralmente andata al rialzo negli ultimi negli ultimi anni toccando anche un picco proprio negli ultimi mesi. Ecco che quest'ultimo aspetto sia citato come uno dei fattori principali che ha dato il boost agli utili aziendali ma come sapete benissimo non c'è soltanto la politica monetaria anche la politica fiscale ha avuto un contributo piuttosto importante creando un ambiente super favorevole per gli utili aziendali e ve lo faccio vedere immediatamente da quest'ulteriore grafico che ci mostra l'aliquote effettive per quanto riguarda appunto le aziende statunitensi in questo caso ritroviamo una dinamica che ci riporta praticamente da appunto il 1950 in poi praticamente una discesa costante e qua appunto non possiamo sicuramente definire una prima epoca e una seconda epoca ma tendenzialmente appunto quella che è stata poi un'epoca super favorevole ancora in corso ma sotto questo aspetto ecco che le politiche fiscali sembrano potenzialmente cambiare nel prossimo futuro vedremo se effettivamente sarà così ma insomma siamo passati praticamente da dei livelli molto molto importanti di circa un 35 40 per cento con picchi addirittura del 45 per cento nel 1950 fino praticamente al bottom inferiore al 10 per cento di praticamente 2020 circa anno più anno meno quindi comunque sia politiche fiscali super accomodanti beh da questo punto di vista quindi abbiamo visto che politiche monetarie duplice aspetto politica fiscale in un'unica direzione ecco che si è creata in particolare nella ultima parte della finestra temporale presa in considerazione da praticamente il 1989 in poi un ambiente sicuramente super favorevole e la nota quindi e la domanda che ci rifacciamo alla fine di un'epoca o di un'era è questa sappiamo benissimo che nel 2022 è cambiata la politica monetaria della federal reserve quindi da questo punto di vista l'ambiente è cambiato cambieranno anche le politiche fiscali sicuramente per quanto riguarda il debito in continua crescita qualche domanda ce la possiamo sicuramente porre ecco che a questo punto nasce la domanda fondamentale e cioè effettivamente gli utili aziendali cresceranno allo stesso ritmo con i quali sono cresciuti negli ultimi anni e di conseguenza i mercati risponderanno con altrettanto entusiasmo a tali crescite o a tali decrescite ecco qua il nodo della questione di questo paper che ho cercato di sintetizzare veramente in maniera super super sintetica in questo breve video questa è la domanda principale che si pone ma è un avvertimento anche che fa perché appunto in questo paper viene messo proprio l'accento sul fatto che attenzione perché ripetere o quantomeno vedere una continuazione di questo entusiasmo relativamente alla crescita degli utili che c'è stata negli ultimi anni ecco che ci saranno sempre più difficoltà effettivamente il mercato reagirà così saranno questi effettivamente i fattori cardine nelle prossime settimane nei prossimi mesi nei prossimi anni che determineranno l'andamento dei listini azionari e di conseguenza anche diciamo singolarmente per ogni azione lo vedremo e lo scopriremo vi terremo aggiornati su questo prima di andare avanti prima di citare un ultimo aspetto che completa un po quello che è diciamo la view di questo video citerei ancora una volta ringraziare admiral markets per il supporto e l'aiuto che ci dà nella realizzazione di questi video se siete interessati ad un partner affidabile per quanto riguarda il trading online e non solo ecco che admiral può sicuramente fare al caso vostro noi come sempre abbiamo una figura di spicco un referente principale per quanto riguarda l'europa che è matteo paganini sempre presente nei live del giovedì mattina in descrizione trovate il link per poter valutare l'apertura di un conto demo andare a vedere all'interno del sito tutti quelli che sono i prodotti a vostra disposizione e come sempre poi sarà tutto lo staff sempre pronto di admiral a rispondere ad eventuali vostre domande per chiudere questo video noi all'interno del percorso formativo ormai da praticamente settembre 2022 portiamo avanti questo aspetto in maniera molto grossolana che cos'è che ci può definire diciamo una sorta di fervelio dell'S&P e non solo beh chiaramente il prezzo dell'S&P è composto da una parte da quelli che sono i multipli press earning ratio ad esempio e gli utili per azione la moltiplicazione degli stessi ci dà una sorta di grossolano punto fervelio a questo punto quindi diventano determinanti gli utili aziendali che verranno pubblicati nelle prossime giornate e dove si assesteranno questi ultimi fattori per cercare quindi di darci una prospettiva soprattutto per quanto riguarda i valori attuali sono a premio o sono a sconto rispetto a quelle che potrebbero essere appunto queste semplici congetture e tesi che possiamo mettere in campo dagli ovviamente ulteriori approfondimenti che facciamo come sempre giorno per giorno all'interno del percorso riguardano quelli che saranno e che sono i livelli chiave da ovviamente osservare tutti quelli che sono i pattern di prezzo e così via non posso ovviamente svelare troppo altrimenti non me ne vogliono i ragazzi del percorso formativo ma se qualcuno è interessato ovviamente trova il link in descrizione infine prima di salutarci vi ricordo un appuntamento importantissimo per la nostra community webinar 26 luglio 2023 io il prof angelo ciavarella e giuseppe roccasalvo cercheremo di darvi input utili per quanto riguarda come dove investire nel secondo semestre 2023 iscrivetevi attraverso il link in descrizione è un evento totalmente gratuito spero ancora una volta che questo video vi sia servito o quantomeno vi servirà che vi possa servire o meglio per quanto riguarda un'ulteriore lettura di tutti questi aspetti di natura fondamentale e non solo perché come sempre una buona lettura di quelli che sono i numeri presentati dalle società ma al tempo stesso quelli che sono i prezzi degli asset sotto la lente di ingrandimento è di fondamentale importanza fatemelo sapere all'interno dei commenti io come sempre vi invito ad iscrivervi ai nostri canali social canale youtube e canale telegram sono completamente gratuite le iscrizioni trovate il tasto di iscrizione qua sotto link per il canale telegram in descrizione io come sempre vi ringrazio anticipatamente vi auguro una buona giornata e come al solito vi attendo al prossimo video